Musica 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 Oh ah 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 Io sono Ate Il dio degli impi O dei morti o Io sono il re di sotterraneo delle tembre E io lo porterò Con il mio regno dell'onde d'ombra Delle anime dei miei fratelli Tanni possono distruggere dei limbo Di mio fratello Zeus Ovviamente non avete parlato della storia Delle anime? Volete sapere? O non volete sapere? Certo che volete sapere Ti mostrerò cos'è I miei anime che cosa non possono dire Anime! Venite subito qui Ordino eh! Anime! 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 O non ho? O non ho? Grazie a tutti. Hai visto le mie anime? Certo che avete visto, ovviamente. Il forno, questa è una mia storia che dovete sapere. Dopo il Zeus, il mio primo, mi sono dato a formare una creatura. Così il fuoco, la malattia, più scura. Ovviamente che io non sono mai morto a far girare la mia vita. Ovviamente non volete sapere che cosa mi guardo, mi impugno. Ovviamente posso fare anche il fuoco, posso anche creare tutti i miei giochi, anche un tempo, una cosa di come si giocava, come che ne so, tutto, ce l'ho. Ovviamente posso anche creare una cosa che, i miei miei piani dell'impianto della macità, che io mentre sto cercando di catturare il Correl, che io lo chiamerò Torsorone, che io lo sposerò e sarà la mia amata che porterò con i miei infili, ovviamente. Ovviamente che il mio regno dell'Onta e Dove, delle mie anima, possono qualsiasi cosa che io voglio uccidere o non uccidere, se hanno questo, ucciderò quando vedremo. Ovviamente se io posso fare una cosa che, ma questo è un giorno, perché il mio regno non sarà ancora terminato il mio lavoro, ma questo giorno, che è il mondo sarà mio!